in caro pierpaolo lei racconta un po l'atmosfera che c'era un po nelle tavole italiane negli anni 60 e 70 secondo lei questa cosa si può trasferire giorni d'oggi può essere ancora possibile secondo me no perché è cambiato è cambiata atmosfera è cambiato il temperamento diciamo così la temperatura anzi è cambiata è cambiata l'italia è cambiata totalmente allora c'era il mondo degli artisti si sentiva una comunità era molto solidale anche perché secondo me perché le istituzioni erano molto rigide c'era la censura per esempio c'era la censura che imperversava tutti gli artisti in qualche modo erano sotto questa minaccia della censura bisogna pensare non so che pierpaolo pasolini ha avuto 82 denunce che il film di bertolucci è stato bruciato una cosa medievale non solo censurato bruciato cioè non doveva rimanere nemmeno una copia una cosa pazzesca no perciò effettivamente probabilmente la comunità degli artisti si sentiva più solidale anche perché doveva difendersi contro una società piuttosto bigotta moralista un po antiquata chiusa ecco ha definito pasolini un uomo mite tranquillo e volte anche tenero a detta sua quanto di questo può trasferire a noi persone nel senso anche a noi persone esterne che non lo conosciamo può trasparire questa cosa è solo una cosa sua intima no no lui e il fatto è che lui nei riguardi quando scriveva quando faceva la polemica sociale era piuttosto duro critico severo anche provocatorio quando invece si rivolgeva agli effetti agli amici alle persone a lui care era come lei ha detto una persona mite dolce gentile ma c'era una ragione cioè lui è stato subito nella sua proprio ingresso nel mondo è stato attaccato con una tale violenza che lui poi reagiva quindi la sua reazione deriva dal fatto che è stato attaccato censurato discriminato mentre con gli amici era quello che in realtà secondo me la sua natura era gentile e gentile e affettuosa in questa sua gentilezza secondo lei cosa consiglierebbe i giovani d'oggi a noi ma i giovani d'oggi consiglierei di non chiudersi nel proprio piccolo mondo purtroppo anche la pandemia ha indirizzato in quella in quel tipo di pratica no di chiudersi la tecnologia poi che curiosamente la tecnologia sembra facilitare i rapporti invece non è così si è molto più soli prima è vero no ecco e quindi io consiglierei di lasciare un po perdere i social il telefonino i tablet e di rivolgersi un po più a stare insieme però stare insieme non soltanto per bere per fumare una sigaretta ma stare insieme con dei progetti io credo che questo guarda io vedo che nelle scuole vado molto nelle scuole nelle scuole dove i ragazzi sono stimolati e spinti a fare dei progetti insieme che può essere sportivo musicale teatrale letterario qualsiasi genere e immediatamente viene fuori una grande vitalità la risposta è ottima per cui io consiglierei ai ragazzi di trovarsi una un progetto comune con quelli che si interessano che può essere appunto un giornale della scuola oppure anche spot non ne faccio una questione oppure commerciale quello che vuoi per un progetto comune quello unisce moltissimo e dà una spinta fortissima e secondo lei i pasolini cosa consiglierebbe a noi io credo che lui consiglierebbe di lui sai lui è molto anarchico in un certo senso era contrario a ogni forma di istituzione lui era molto rivoltato io credo che lui consiglierebbe di di soprattutto di vedere i luoghi comuni e di combatterli perché lui aveva una specie di odio furibondo contro i luoghi comuni e cercava di di combatterli no e io credo che questa è una pratica molto buona io aggiungerei di ecco la scuola dovrebbe essere il luogo dove si impara a pensare con la propria testa non a riempirsi di informazioni perché poi l'informazione va benissimo ma non è quello lo scopo lo scopo è di imparare a pensare con la propria testa però per questo ci vuole la ci vuole l'esperienza della pluralità cioè informarsi in di tante voci conoscere di tante esperienze di tante voci diverse poi farsi un'idea lei ha detto che ormai tutti vogliono scrivere ma nessuno vuole leggere pochi vogliono leggere ma molti vogliono scrivere e secondo lei un evento come questo in questo spazio può incentivare alla lettura io penso di sì già per esempio il fatto che pasolini sia tornato perché c'è il centenario c'è un po unicitazione a rileggere i suoi libri molta gente sta comprando i suoi libri beh questo vuol dire una incentivazione alla lettura no per cui dovunque si parla di libri si si va a fondo sui libri perché il libro è un oggetto molto speciale cioè non si può trattare il libro come una scatola di mattino il libro va sul mercato ma il rapporto del libro col mercato non è quello delle scarpe della maglia o insomma non è un oggetto qualsiasi è una è un oggetto speciale per cui il rapporto col mercato non può essere quello normale della merce è un altro tipo di rapporto che passa attraverso per esempio la la libreria secondo me non è un mercato un negozio qualsiasi è un negozio dove si raccolgono i pensieri dove si si incontra e ci si confronta con i pensieri e allora questo secondo me è importante far capire che i libri sono una grande esperienza una grande ricchezza e una grande forza per la nostra immaginazione che per me è il motore più potente del nostro corpo leghiato all'ultima cosa un favore lo facciamo con tutti gli intervistati se può salutare i ragazzi del pop web in camera i ragazzi del pop web allora ragazzi del pop web vi faccio un saluto carissimo io penso che già il fatto che state facendo questa questa iniziativa è un po quello che dicevo prima state facendo insieme un'iniziativa che per me è una cosa ottima quindi vi auguro un futuro forte intelligente e prezioso e quindi un saluto carissimo grazie a tutti